Sconfitta casalinga per il tennis club Bischacca Tudone Olio nel campionato nazionale di serie C maschile. Presso i campi del quartiere Perriera, la squadra di Enzo Sclafani ed Enzo Colletti è stata superata dal circolo tennis Trapani per 2 a 4. Una sconfitta imprevista ed inaspettata che, ci si augura, non possa pregiudicare il cammino delle sodalizio saccense nel girone. Il tennis club Bischacca ha perso due singolari e poi non è stato nemmeno assistito dalla fortuna nei doppi, persi entrambi al tie-break. Questi parziali dei vari incontri. Cristian Fanara ha superato Davide Antonino Poma per 6-3-6-1. Mattia Yanni ha ceduto a Claudio Cerroni per 5-7-4-6. Gabriele Dolce ha vinto contro Gabriele Magaddino 6-7-6-3-6-2. Domenico Caracappa è stato battuto da Gianluca Coppola 5-7-2-6. Nei doppi, le coppie locali Caracappa Fanara e Gianni Dolce sono state superate entrambe dalle coppie trapanesi Coppola Salvo e Magaddino Cerroni. Appuntamento adesso a domenica prossima 10 marzo, in trasferta presso il circolo tennis Palermo, per la quarta giornata di campionato. In classifica, Tennis Club Bischacca ha 6 punti in tre partite, mentre gli avversari di domenica prossima hanno anch'essi 6 punti, ma in due partite fin qui disputate. E passiamo al podismo. Due gli appuntamenti agonistici a cui hanno partecipato gli appassionati di Sciacca nei giorni scorsi. Tre atleti secensi, ossia Antonino Peralta, Giuseppe Mangiaracina e Giuseppe Turturici, tutte e tre della Sciacca Running, hanno partecipato alla manifestazione denominata Stralicata, prova di corsa su strada sulla distanza di 10 chilometri, uno dei primi eventi targati fidel della nuova stagione agonistica. Altri tre sacensi, Michele Guzzardo della Sciacca Running, Domenico Piazza e Giuseppe Baldassano della Gatocle, hanno invece partecipato alla mezza maratona di Roma-Ostia, competizione di 22 chilometri che ha portato i podisti da Roma verso il lungomare di Ostia. Guzzardo ha chiuso con l'ottimo tempo di 1 ora e 27 minuti, Piazza 1 ora e 39 minuti e Baldassano 1 ora e 58 minuti. Sodalizi secensi che adesso si preparano in vista dei prossimi appuntamenti agonistici federali.